Le malattie esistono da sempre e il fatto che siamo organismi umani comporta implicitamente il fatto che ci possiamo ammalare. E qui diciamo notiamo una certa tendenza invece a tenere nascosta la malattia. È vero che si vada a cercare colpevole, cioè appartiene a una città, appartiene a una nazione, vai a cercare colpevole. Cioè la grande peste nera del 1348 a Milano e in Polonia, per non sapere le lezze e descrivere, cioè non si sperava di cosa sia, però hanno detto vabbè chiudiamo tutto. A Milano e in Polonia l'hanno fatto rigorosamente e hanno risparmiato vite umane.